E a questo punto, dopo questo lungo pomeriggio di TV Radicale, resta la chiusura, la chiusura prevede il collegamento con Napoli. Vedo già online Luigi Mazzotta, mi accingo a chiamarlo, vediamo se Luigi mi risponde, e la rubrica che è prevista in questo momento sarà condotta Luigi mi senti? Sì, ti sento! Perfetto, sarà condotta da Rodolfo Viviani, quindi favoriamo l'inquadratura anche di Luigi, perfetto, che proviamo ad aggiungere alla conversazione, vediamo un po' se Rodolfo ci risponde. Titolo della rubrica molto interessante, i conti in tasca, conversazione di Rodolfo Viviani con Luigi Mazzotta su quali le strade da intraprendere per uscire dalla crisi economica che tenaglia del paese, questo è il titolo della trasmissione. Ci ho detto però, tanto Luigi dovresti rimandarci l'immagine, vediamo Rodolfo che salutiamo, ci ho detto però, adesso no, dovresti stoppare e riavviare la webcam. Dicevo, a parte questo, ci sono da raccontare molte altre cose su quello che in questi giorni, voglio dire, in queste ore sta accadendo a Napoli grazie all'iniziativa politica posta in essere dell'Associazione per la Grande Napoli. Quindi io vi propongo di aprire il programma con i conti in tasca e poi ci possiamo allungare tutto il tempo che volete parlando delle cose importanti che in queste ore i compagni dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli stanno mettendo in essere e che ci hanno resi veramente molto felici. Ma a bando alle ciance, la parola a Rodolfo Viviani per i conti in tasca. Buonasera a tutti, questa trasmissione vuole fare un po' il punto della situazione della crisi italiana, avendo la possibilità di sentire Luigi Mazzotta che da anni si occupa di finanza, lui di professore file trader e ha voluto lanciare un forte allarme durante la prima sessione del Comitato Nazionale di Radicale italiani quando da segretario dell'Associazione per la Grande Napoli ha comunque preferito tenere il suo intervento sulla crisi e soprattutto sulle bugie del governo tre munti e sulla gravità della situazione italiana che usando le sue parole si trova in un vortice dal quale difficilmente potremo tirarci fuori. Inoltre la crisi si sta aggravando, conosciamo un po' la situazione, anche ieri Bonanno e Angeletti hanno parlato di riforma fiscale e di misure importanti da prendere rispetto alla crisi, quindi vorrei sentire Luigi che in questo primo intervento magari ci fa un po' il riassunto, partiamo proprio da lì per poi andare avanti. insomma, come è la situazione dell'economia italiana in questo momento. Allora mi sentite bene? Sì, io ti sento. Bene, allora io vorrei partire dall'ultima relazione di Mario Draghi, che ritengo sia una una persona molto autorevole ed equilibrata riguardo appunto le materie economiche. Se mi consenti Rodolfo, io credo anche di dire che Draghi nella sua relazione ha avuto un atteggiamento anche radicale, se vogliamo, nel senso che quando, in quanto lui ci parla di riduzione del deficit pubblico e del modo di influire su questa riduzione, in che cosa consiste in effetti da questa relazione? È venuto fuori che sicuramente ci vorranno dei tagli alla spesa, quindi sì ai tagli, però bisogna essere molto selettivi riguardo a questi tagli sulla spesa pubblica. In più possiamo dire che ci dovranno essere anche degli sgravi fiscali, logicamente più produzione ed innovazione e quindi anche più sviluppo per quanto riguarda le università. Queste delle università a me mi ha colpito molto perché noi se non rilanciamo sicuramente la cultura nel nostro paese, molto probabilmente resteremo indietro. Quindi noi diciamo che possiamo dire che abbiamo bisogno esclusivamente di una riforma fiscale che equivale ad una riduzione delle tasse per le famiglie ed anche per le imprese, ma ci si pone il problema di dove andare a tagliare. Io credo che durante l'intervento che ho tenuto a gennaio ho parlato dei mostri di cui improvvisamente sono apparsi contro i monti. Questi mostri erano nascosti e ora stanno venendo fuori. I mostri sono venuti a galla e riguarda in questi ultimi anni di governo l'aumento della spesa pubblica e della spesa corrente, con i tagli che ci sono stati agli investimenti pubblici e di conseguenza con l'aumento delle tasse. Ricordiamo che per quanto concerne le spese d'acquisto di beni e servizi per la pubblica amministrazione lo Stato spende 138 miliardi di euro all'anno e negli ultimi cinque anni c'è stata una vera e propria esplosione della spesa, pari ad un aumento del 50% e se pensiamo che c'è stato un aumento del 23% sui comuni, questi dati dovrebbero far riflettere e soprattutto rabbrividire. Quindi le polemiche sull'allentare i cordoni della borsa, tutte queste cose che leggiamo sui giornali, diciamo che questo è già avvenuto nella menzogna, tenendo all'oscuro il popolo italiano, la spesa corrente pubblica. Esattamente, potremmo dire che in effetti si è innestata una rapina legalizzata ai danni dei cittadini e delle istituzioni, cioè il problema è che occorre frenare il debito rappresentato da 812 miliardi di spesa a fronte di 770 miliardi di entrate. c'è una politica economica seria, trova dei sistemi per un azzeramento del debito e tutto ciò non c'è stato. Questa è la gravità di questo governo. In più, scusami, c'è da dire che abbiamo una lotta all'evasione che è pari a 9 miliardi di euro e c'è da tener presente che ogni recupero di un euro che avremo da questa evasione dovrebbe corrispondere ad un vantaggio di riduzione della spesa per i cittadini. Quindi io credo che dovremmo stare molto attenti per quanto riguarda la nostra situazione economica da qui al prossimo futuro. Cioè la disoccupazione è in aumento e soltanto nel 2010 sono questi dei dati che non vengono pubblicati sui giornali. Cioè la disoccupazione è aumentata tantissimo e si sono persi nel 2010 un milione di posti, quasi all'incirca un milione di posti di lavoro. In più, c'è da dire che la settimana scorsa la Corte dei Conti ha registrato entrate per 9 miliardi di euro che sono diventati 5, improvvisamente. E noi vorremmo sapere dal Ministro Tremonti questi 4 miliardi che fine hanno fatto, che mancano. Cioè questo è un vero buco da coprire, ma la gente non è al corrente di queste notizie. L'Italia, logicamente, potrà ripartire quando ci saranno una serie di riforme strutturali da attuare subito e che riguardano un vero piano di liberalizzazione del sistema. Poi, se mi consenti, voglio anche dare la notizia, insomma, che le notizie delle varie agenzie di rating che stanno arrivando sull'Italia, noi abbiamo avuto la notizia di che non sono per niente buone. Infatti io le avevo previste, ma credevo di aver sbagliato tutte le mie previsioni. Diciamo che non solo Standard & Poor's, ma anche Moody's, l'altro ieri, che sono le più alte agenzie di rating a livello mondiale, hanno messo sotto la lente il controllo dell'Italia sul debito pubblico, che ha sfiorato ormai i 1890 miliardi di euro e la crescita in materia di politica industriale è cresciuta nei primi quattro mesi del 2011 di appena lo 0,1%, il cosiddetto PIL, prodotto interno lordo, dove in Germania invece c'è stata una crescita del PIL del 3,5%. Sappiamo che il prodotto interno lordo dell'Italia è dei 10 anni che fermo e abbiamo dati molto negativi e a fronte di questo dato abbiamo invece l'aumento esponenziale del debito pubblico, quindi questo appunto dimostra la difficoltà del momento italiano. Vorrei, insomma, a gennaio tu facessi delle previsioni appunto curandovi di sbagliare che la crisi italiana poteva essere molto più grave di quella greca perché l'economia italiana è un'economia manucatturiera, industriale rispetto appunto al caso greco dove si tratta di un'economia meno strutturata, basata su altre fonti di entrate. Però quindi ovviamente i problemi della disoccupazione in Italia sono enormi anche perché noi diamo credo nelle statistiche ufficiali un 8,5% ma in realtà questo dato è falsato dal metodo di rilevazione italiana perché le stime della disoccupazione italiana sono ben oltre l'11% che sarebbe il dato più alto d'Europa. Abbiamo parlato un po' di dati che magari possono essere anche un po' diciamo nella trasmissione un attimo un po' più difficili, però per questo volevo venire a un punto che io credo cruciale perché il problema dell'Italia è oltre appunto a una mala gestione della spesa pubblica e dei conti pubblici è il problema dell'instabilità politica e il problema del regime partitocratico, della peste italiana. Questo viene molto più preoccupato rispetto a questo insomma quindi pensi che è possibile per l'Italia salvarsi da questo vortice nel quale stiamo per entrare dentro e appunto anche dal punto di vista politico ti ho parlato di debilizzazioni ma quali possono essere le strade di uscita per il nostro paese. Allora guarda noi dobbiamo innanzitutto avere le idee chiare per quanto concerne il prodotto interno ludico perché in effetti questo dato esprime il valore complessivo dei beni in Italia si cresce sotto la media europea questo ci sembra ormai molto evidente e quindi noi dobbiamo insomma cercare di prendere assolutamente dei provvedimenti anche perché con ciò che sta accadendo in Grecia qui ci sono delle notizie che molti non sanno ma in effetti ora nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore finanziamento da parte dell'Unione Europea di all'incirca mi sembra dovrebbero essere 12 miliardi di euro ma il dato che arriva, le notizie che io riesco a recepire è che se la Grecia dovesse andare in default cioè dovrebbe dichiarare bancarotta tra l'altro c'è stato un rimpasto del governo Papandreu proprio nei giorni scorsi con la sostituzione di alcuni ministeri di alcuni ministri cioè questo dato comporterebbe il crollo negli Stati Uniti d'America di un'altra grande banca americana quindi ci sono questi allarmi di cui non se ne sta parlando perché tutto il discorso dell'economia ricade sempre sulla crisi che c'è stata negli Stati Uniti d'America sui subprime quando Geithner nel mese di luglio del 2010 ha compiuto una visita lampo in Europa dove è stato da in Inghilterra prima e successivamente dalla Merkel in Germania lui ha dato una ricetta per uscire fuori da questa crisi ma a quanto pare questa ricetta che riguardava poi in effetti delle riforme su tutto il sistema finanziario in Europa almeno particolarmente in Italia non c'è stato neanche un minimo di partecipazione ad un colloquio per parlarne di queste cose per cui io sono veramente preoccupato perché gli Stati Uniti d'America il Dow Jones è un indice di borsa fondamentale su cui tutta l'Europa si muove in base a questo andamento ciclico e noi rischiamo veramente a parte perdere tantissimi guattrini tra i piccoli investitori che si avvicinano al mercato perché giustamente si rendono conto che in Italia ormai fare un bot, un CCT comprare dei titoli di Stato sia di breve che di medio che di lungo periodo non danno neanche un interesse dello 0,1% cioè fare un bot oggi significa depositare una somma su una diciamo senza poi avere un minimo ritorno di interesse quindi noi dovremmo assolutamente fare in modo di fare investire nel mercato ma fare investire in modo serio in modo che si possa uscire da questa crisi ma io penso che già la prima cosa che potrebbero fare già da subito è aumentare dell'1% l'IVA sui beni di lusso perché c'è tanta gente che insomma barche grandi macchine gente miliardaria ma questi dovrebbero essere i primi a partecipare ad una rivalutazione insomma dello Stato d'Italia perché le cose per come stanno andando cioè promettono molto ma molto male non solo ma c'è da dire che con il problema della disoccupazione che è in aumento e di posti di lavoro che insomma si vanno a smarrire nel nulla l'Italia sta giocando si sta giocando una carta che come dicevo io che volevo sbagliarmi e vorrei ancora sbagliarmi noi non faremo cioè noi faremo la fine della Grecia cinque volte peggio perché in fondo in Grecia che cos'è che si produce? un po' di turismo un po' di agricoltura ma in Italia noi abbiamo industrie abbiamo operai che lavorano e c'è un un giro non indifferente insomma di economia se tu parlassi anche scusami se ti interrompo poi ci restano dieci minuti nei quali magari dare spazio alla chat io chiedo a questo punto aiuto a Roberto perché per problemi di diciamo capacità del mio computer non posso aprire il programma quindi non posso seguire se ci sono domande della chat quindi magari se Roberto Mancuso mi può aiutare rispetto a questo e diciamo tu hai un passaggio che ritengo importante della per cui intervento il comitato è proprio quello di una possibile crisi del nord no? perché tu dici noi al sud siamo abituati a vivere momenti di crisi cioè siamo quasi abituati sempre a vivere momenti di crisi però il nord strutturato della piena occupazione di tanti piccoli imprenditori potrà soffrire una crisi con appunto una conseguenza anche che non possiamo comprendere di disgregazione del tessuto sociale e tutto mi sembra che arrivano anche le prime conferme i risultati della Lega alle amministrative eccetera se appunto puoi commentare questo poi magari vediamo sì Rodolfo ma infatti perché noi che siamo nati a Napoli nel meridione d'Italia siamo nati cresciuti e formati con la disoccupazione se tu pensi che io domani compirò mezzo secolo 50 anni e lo Stato lo Stato a me mi ha rifiutato perché sono 30 anni che io sono disoccupato quindi io dovrei stare alla fame però ho avuto la fortuna di ecco muovermi nella flessibilità del lavoro non mi sono reso assolutamente un socialmente io li chiamo inutili non socialmente utili quindi mi sono dato da fare e ho cercato di capire come attraverso la flessibilità del lavoro ci si possa inventare qualcosa e su questo devo dirti che ci vogliono assolutamente delle riforme che riguardano la liberalizzazione delle carriere perché noi viviamo in uno Stato dove ci siamo tutti partita IVA ma le spese sono tantissime per cui tra pagamenti di INPS INAIL per chi ha dei dipendenti insomma questo Stato non produce quindi il Nord che invece non ha vissuto la nostra situazione la questione meridionale che noi portiamo avanti da un secolo ormai come tematica il Nord si trova in grossissime difficoltà perché ormai anche tutti i trasferimenti di illegalità sono arrivati al Nord ormai il Nord è pieno di mafia pieno di indrangheta pieno di camorra ci sono società corrotte ci sono falsificazioni di bilanci tra l'altro c'è da dire che sono calate anche le esportazioni per cui io credo che questa situazione in cui noi siamo cresciuti qui al meridione la questione meridionale si è trasformata ora in una questione settentrionale perché queste persone non sono abituate ad andare a cercarsi un posto di lavoro il loro ruolo per la gran parte dei cittadini del Nord è quello di fare l'operaio e vivere di stipendio insomma e gli imprenditori in effetti sì c'è una classe imprenditoriale sicuramente molto più avanzata ma si trova in enorme enorme difficoltà in questo periodo per cui le riforme sono fondamentali sono obbligatorie mi meraviglio come ancora questo governo dopo tre anni non se ne sia ancora reso conto sì effettivamente è proprio così allora non ho nessun riscontro da Roberto Mancuso e quindi diciamo sarebbe stato utile magari poter rispondere a qualche domanda della chat ci restano cinque minuti diciamo che penso che occorrerà magari in una nuova trasmissione fare il punto anche su invece la questione meridionale che poi ci interessa più da vicino viviamo nella città che vive probabilmente la più grande crisi della sua storia la qualità della vita a Napoli monitorata sulle 24 ore è crollata nel corso dell'ultimo anno e era già in una discesa costante ma ormai siamo l'ultima provincia italiana per la qualità della vita c'è un passo di occupazione altissimo soprattutto tra i giovani e è davvero difficile a tale capitale in questa città che ormai appunto è ingolfata da tante incrostazioni che si sono appunto accumulate nel corso di tutti questi anni quindi io spero appunto che ci sarà modo di continuare a parlare di problemi economici di problemi anche sociali ovviamente che abbiamo qui nel sud anche della crisi dei risparmi perché questa è un'altra cosa che tu hai segnalato più volte ora appunto abbiamo tre minuti non so se vuoi concludere appunto se vuoi dire appunto come intendi concludere questa cosa magari appunto commentando anche un po' la situazione che abbiamo qui a Napoli nel meridione allora guarda Rodolfo io sono del parere che in Italia dobbiamo smetterla ormai di di nasconderci dietro i paraventi sacri il nostro ministro dell'economia Tremonti dovrà assolutamente o intervenire oppure forse meglio che sia il caso di ritornare al voto magari non si risolverà nulla perché senza una nuova legge elettorale non credo che ci possano essere dei cambiamenti sia in materia di economia di giustizia di integrazioni sociali in Italia ci sono tantissimi problemi che si stanno accavallando e quindi ora Remondi che dice che se ne uscirà con 5 tasse con 3 aliquote IRPAF insomma queste cose lui ce le doveva raccontare un po' prima io credo che siamo in una situazione in cui o si fa davvero una vera riforma che riguarda il fisco e l'abbassamento delle tasse ripeto per i cittadini e per le imprese oppure noi rischieremo veramente grosso anche perché non ne stiamo parlando di questi problemi se noi acquistiamo i giornali il sole 24 ore ci dicono delle notizie ma queste notizie però non vengono approfondite dal governo per cui io devo dire che sono abbastanza preoccupato e mi voglio augurare che al più presto ci si trovi una via di uscita per risolvere questo grosso problema dell'economia italiana che ripeto ho paura che domani è la volta del Portogallo dopo domani potrebbe essere la volta dell'Italia ma qui i problemi sono davvero innumerevoli e quindi mi voglio augurare che si risolva il tutto nel più breve tempo possibile io se posso aggiungere direi che comunque ti avrei sollecitato poi forse per noi è un'analisi scontata quindi magari appunto non l'abbiamo ripetuta però credo che tutte le riforme economiche e finanziarie di cui ha bisogno il nostro paese comunque non possano avere luogo in un sistema politico partitocratico e di regime che impedisce il dibattito sui temi importanti del nostro paese quindi ci vuole ci vuole scusami Rodolfo il ripristino della legalità anche in materia finanziaria questa è la riforma più importante questa è la riforma più importante perché riguarda il mercato il mercato è fatto di acquisto e di vendita non ci si acquista soltanto azioni o obbligazioni ma ci si acquista anche immobili per cui la situazione immobiliare italiana non è assolutamente buona in quanto noi sappiamo che nell'arco del 2010 ci sono stati svariati casi di persone che ormai non possono pagare più la rata del mutuo perché le banche usuraie hanno fatto in modo di contrarre mutui facendo i tassi sbagliando completamente l'indirizzo dei tassi e quindi queste persone si trovano ora svantaggiate perché avrebbero dovuto fare contratti con tassi variabili e invece li hanno fatti fissi poi improvvisamente quando c'era da contrarre un mutuo per fare il tasso fisso hanno fatto il variabile insomma le banche contando anche appunto sulla scarsa capacità degli italiani di appunto la scarsa cultura finanziaria che abbiamo in questo paese perché poi sono temi che vanno spesso affrontati in delle nicchie di informazioni ma non diventano dibattito pubblico e quindi anche la manovra che si dice che bisognerà prendere per rispettare appunto quelli che sono gli obbligi europei dentro del deficit eccetera che si parla di una manovra da 40 miliardi o ancora superiore insomma questa dovrà essere in qualche modo spiegata agli italiani altrimenti rischieremo comunque poi la rivolta sociale e cose nessuno può prendersi delle responsabilità sì